Simone Merini, come mai ha deciso di partecipare allo spettacolo? Beh, è già diverse volte che partecipo a spettacoli di Ansabio, Dario Cirlone, Dottor Sorriso, lo faccio veramente col cuore, come tutti gli artisti che partecipano al titolo totalmente gratuito a favore dei bambini ricoverati all'Istituto Rizzoli, naturalmente di Bologna. In veste? In che veste sono? Di imitatori, perché io imito tanti personaggi, come tale ho partecipato a varie trasmissioni televisive nazionali, Rai, Mediaset, fate prima a trovarmi su Youtube, tanti video! Come imitatore ho partecipato a alcune trasmissioni nazionali, Rai, Mediaset, e quindi per me col cuore è bellissimo dare un sorriso a chi ne ha bisogno. Sono un comico, ma lasco come attore, tra l'altro proprio qua a Teatro Deono, io mi sono diplomato come attore a Bologna all'Accademia dell'Antoniano, ma proprio qua a Teatro Deono ho mosso i primi passi in teatro, recitando nel Cardinale Lambertini per la regia di Guido Ferrarini, che era anche naturalmente l'interprete che faceva il Cardinale, quindi sono molto legato al Teatro Deono.